ciao a tutti io sono francesca e oggi video unboxing di questo smartwatch che è il clone dell'apple watch ultra è il clone economico nel senso che questo qui costava i 13 e 25 euro su aliexpress io l'ho preso in offerta e perché lo voglio provare ho visto che su youtube ne parlano abbastanza bene e quindi voglio provarlo appunto e dirvi come funziona e farvi sapere quali sono le mie impressioni allora andiamo ad aprirlo la scatola è completamente diversa dall'originale ok qua c'è il manuale che deduco sia in cinese e inglese qua c'è il QR code per scaricare l'app che è questo qua se vi serve ve lo faccio vedere così abbiate perso il QR code comunque si dovrebbe anche vedere dall'orologio allora questo è un centurino vediamo subito se magnetico scusate ma mi sta togliendo l'apple watch quindi se avete sentito un rumore strano adesso vi faccio vedere che cos'è è questo vediamo se magnetico si è magnetico però non sono convinta che vada bene per l'alto voce normale infatti non ne sono detutto non penso entra bene allora i cinturini abbiamo questi qui normali e non so perché non abbiano messo questi cinturini qui così comunque adesso andiamo a tirar fuori l'orologio ovviamente dovrebbe essere un 49 mm questo se riesco a tirarlo fuori senza spaccarlo perché è veramente veramente bello questo ho visto anche le foto che hanno messo e allora questo qui il retro gps proveremo se così se veramente così 49 mm qua c'è una pellicola pre applicata e io non andrei a togliere perché è comoda di solito allora facciamo così adesso io o se no togliamo vediamo perché poi queste qui sono le pellicola che appena ci sfregate qualcosa contro vanno via vabbè adesso provo ad accenderlo poi al massimo dopo taglio via questa parte qua dai allora per accenderlo ci sono anche i commini qua di lato che vanno tolti credo non è un tasto è fatto così vabbè e l'ho questo allora va tolto porca miseria non riesco a toglierlo no vabbè e l'ho è venuto fuori mi sa che è completamente scarico io vorrei provarlo comunque questo smartwatch hello ah ok quindi è scarico allora niente io chiudo qui il video e poi mi farò comunque il video recensione voglio mettere da loro confronto con altri cloni di apple watch e quindi ci farò un bel po' di video con questo smartwatch detto questo io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao